bentornati a tutti ragazzi benvenuti sul canale di giochi next gen e come prima cosa ragazzi auguri di buon natale a tutti quanti voi tutti quelli che vedranno questo video auguri di buon natale visto che oggi è il 25 dicembre ragazzi oggi ho deciso di portarvi quindi un titolo senza l'ore d'anna tra l'altro quindi ci salviamo per questa settimana dalla rubrica l'ore in game oggi sono da solo praticamente ho deciso di portare un titolo appunto di un gioco natalizio ok ragazzi ho deciso di portarvi comunque un gioco sul natale sempre della serie più o meno dei troll face quest è gioco si chiama appunto christmas troll canon che ora andiamo ad affrontare insieme ragazzi ma qui c'è già il babbo natale vedete fatto tipo troll face quindi play ok ragazzi spero che il gioco vi piaccia vi invito subito a lasciare un like se è così ci sono i livelli bonus ragazzi subito col primo livello vediamo cosa bisogna fare allora mouse click shot exit ok colpiamo l'exit ah è finito così ok ragazzi subito il primo colpo il primo livello non è stato difficilissimo vediamo il secondo ok ragazzi presumo che debba far andare a posso anche dare la distanza alla potenza ragazzi fatemi vedere una cosa no a butto i troppo ecco qua ragazzi forse ho capito c'era sì ok ragazzi ho capito no forse non ho capito un cazzo ragazzi mi sa che mi sono auto bloccato essendo un troll vediamo se faccio così che succede no ragazzi partiamo subito molto molto male girati butto bastardo girate sì ecco qua ragazzi ce l'ho fatta finalmente ecco qui dopo 800 spadi clic 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 ragazzi se conosco bene il troll face è infatti eccolo qui lo sapevo era un troll ma l'ho subito capito ci sono le brelle di natale ragazzi penso che li debba buttare giù che ragazzi ci sarà da fare qualche altra questo giù questo via ok e ora che ragazzi devo cercare di non far no devo stare no 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 attento a non far cadere quell'albero vediamo e ce l'abbiamo fatta ragazzi ok era più semplice di quanto pensassi questa volta nessun troll no no ecco ok ragazzi non so come ma ce l'ho fatta stavano scappando i livelli ce l'ho fatta ok ecco devo far andare quello lì dentro questi due ragazzi devono essere i livelli bonus è difficile sto livello ragazzi finalmente qualche livello un po più impegnativo no si è veramente difficile ce l'ho fatta ecco qua ecco qua ce l'abbiamo fatta quasi ho capito quando ragazzi ho capito quando ora subito ho sbagliato allora ragazzi andiamo ecco qua ce l'abbiamo fatta questi dovrebbero essere già i livelli bonus quindi a ci sono i regali qui vediamo eh ragazzi non so capito se devo buttare giù i regali vediamo eh ragazzi mi da di troll sinceramente ragazzi che cosa succede si alza lì ce l'ho fatta ragazzi non mi chiedete come ma ce l'ho fatta grandissimo ok qui abbiamo un mega regalone non ci credo sto sotto al mega regalone ragazzi quindi ecco qua ce l'ho fatta anche stavolta subito al primo tentativo non so cosa sia questa cosa qua però come stanno vestiti e ragazzi penso di aver già capito non ci credo che facciamo dove abbassare ah ragazzi è di velocità quindi bisogna essere velocissimi ecco qua vedete bisogna essere veloci a sparare tutti i palloni subito prima che c'è la renna che sta cercando di scendere sto odiando questo coso qui lo sto veramente ragazzi odiando l'ultimo palloncino non vuole sfondarsi non so il perché ecco ok ragazzi ce l'ho quasi fatta ecco qua ce l'abbiamo fatta ragazzi anche questo livello è superato ok niente di particolarmente difficile bellissimo vediamo se devo farlo esplodere forse no ecco cioè no ragazzi questo non l'ho capito allora cioè dovrei riuscire e vai ecco qua ragazzi ecco qua dovevo fare prima io di lui la bomba era solamente per distrarci vediamo qui ragazzi questo qui proviamo qui ecco vediamo che succede vediamo uh quella è rimasta appeso ragazzi no non si sposta più c'è da ragionare qua ragazzi c'è sicuramente da ragionare questo l'ho spostato ok ah ecco qua ce l'ho fatta ragazzi non so come ma ce l'ho fatta sinceramente non so come ragazzi non mi sono neanche accorto ok questo qui fa muovere quello non so come forse col peso no andiamo ragazzi no niente uh ce l'ho fatta ce l'ho fatta finalmente ragazzi ce l'ho fatta ok no ecco qua ragazzi finalmente ce l'ho fatta dopo tre ore di tentativi sta diventando più difficile ok vediamo qui ora che questo sta facendo la sauna non so se vedete quanto è bello mentre si fa la sauna eccolo qui ok dobbiamo fargli andare verso di lui così lo facciamo un po' eccolo 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 forse ce l'abbiamo fatta vediamo ragazzi perché i tipi girano 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 vediamo se ce l'abbiamo fatta ragazzi non lo so sinceramente cosa dovrei fare ho fatto cadere quella testa non so ora vediamo ce l'abbiamo fatta no ragazzi mi sa che ho sbagliato la testa forse non doveva cadere quindi ci riprovo vediamo ragazzi vediamo che quella testa comunque qualcosa sicuramente c'entra vediamo niente da fare ragazzi niente da fare se qualcuno di voi ha capito la soluzione la scrivesse subito sotto nei commenti prima di proseguire a vedere il video ragazzi proviamo a non farlo cadere vediamo se riusciamo a farlo salire su vediamo vediamo se ce la facciamo no ragazzi forse devo spingerlo lì forse ho capito se è così ragazzi è molto 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 complicato se è veramente così ma essendo un troll face ragazzi non lo so oh ragazzi ce l'ho fatta ho spinto via quello era era elementare era un vero e proprio troll ragazzi era facilissimo ok ho buttato giù quelli e ok ora non so cosa dovrei fare ok ecco qua ora ho spinto quello quindi devo ok via il regalo ragazzi dovrei avercela forse fatta si ecco qua infatti vediamo se l'albero c'entra qualcosa ragazzi se vi togliete devo far andare ora lì dentro il mio personaggio non sarà sicuramente un'impresa molto facile quasi però quasi vediamo vai 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 ecco qui ragazzi ce l'ho fatta ce l'ho fatta non chiedetemi come ma ce l'ho fatta ok ragazzi questo è abbastanza complicato devo essere sincero vediamo un po' devo prendere i soldi praticamente senza farmi bloccare ok nooo ecco presi anche quelli questi qua sotto la vedo un po' dura vediamo quasi 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 vado vai più forte vai più forte si ce l'ho fatta ecco qui zio paperone si è arrabbiato ragazzi zio paperone di troll face è arrabbiato che avevano tolto tutti i money ok ragazzi ho finito il gioco i livelli sono finiti tutti li abbiamo risolti tutti spero che ovviamente il video vi sia piaciuto ve l'ho portato appositamente come appuntamento speciale di natale mi spero che vi abbia fatto divertire vedere questi troll ci vediamo al prossimo video ragazzi sotto come sempre trovate i miei contatti i miei dpsn e xbox se volete aggiungermi ricordatevi di lasciare un bel like di commentare condividere soprattutto ragazzi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e se siete già iscritti mi raccomando a consigliare il mio canale anche ai vostri amici per farmi conoscere ok ok ragazzi qui d'angelo nero 83 è tutto bella grazie a tutti grazie a tutti